Un'indagine per un furto di abbigliamento portata avanti dagli agenti della squadra mobile dell'Acquestro di Cagliari si è trasformata in un'operazione antidroga. In maniera è definita una cittadina di nazionalità cinese, residente nel rione di Santa Vendrace, nella cui auto i poliziotti hanno rinvenuto un chilogrammo di cocaina purissima, 10 grammi di eroina. Mentre nell'abitazione sono stati ritrovati alcuni capi di abbigliamento che erano stati rubati la notte del 26 luglio in un negozio di via Roma. I ladri si erano introdotti forzando una finestra sul retro e avevano portato via vestiti e accessori per un valore di oltre 30.000 euro. Le indagini nel mondo dei ricettatori e dello spaccio di droga ha portato la squadra mobile ad effettuare una perquisizione a casa della donna, eseguita con l'aiuto dell'unità cinofila della Guardia di Finanza. L'operazione ha portato al rinvenimento dei vestiti rubati, mentre nell'auto è stato trovato l'ingente quantitativo di droga del valore di oltre 250.000 euro. Sempre nell'ambito della stessa indagine, una perquisizione nel quartiere di Smirionis ha portato gli agenti a rinvenire nell'abitazione di un 35enne un'altra parte dell'area furtiva. La donna, dopo le formalità di rito, è stata rinchiusa nel carcere di Uta e messa a disposizione dall'autorità giudiziaria. La merce trovata sarà restituita al proprietario. La squadra mobile sta svolgendo ulteriori indagini per accertare la provenienza della droga e se alcuni furti di recente compiuti a Cagliari siano stati commessi da persone legate allo spaccio, che per autofinanziarsi rivendono l'area furtiva.